Perfetto, allora, questa è qua, la maia. 5C, cosa sarebbe il 5C? Non è un sesto grano? 5C sì, è sesto meno. Beh, mi pare che possiamo diventare mostri. Perfetto, adesso mi furia sinistra. E quella è attraversata lì? Come l'altro l'aspetta, l'aspetta è lì. Come? Come l'altro lì? 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 Lì? Grazie a tutti.